Anche all'aeroporto d'Abruzzo, come negli altri scale europei, a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19, la compagnia aerea Ryanair cancella tutti i collegamenti. Bloccati dal 9 al 31 gennaio i voli da e per Pescara, ad eccezione di quello per Bergamo, odio al serio. Il presidente della saga, Vittorio Catone, spiega che verranno interrotti i collegamenti con Bruxelles-Charleroi, a Bucarest, Francoforte-Anne, Londra-Standstead, Malta e Torino, che rappresentano l'80% del traffico aereo per lo scalo abruzzese. Per noi è stata una doccia fredda, se non gelata, dal 9 gennaio al 31 gennaio Ryanair ha cancellato tutti i voli, tranne quello per Bergamo che rimane con due frequenze giornaliere. Gli altri vettori non hanno manifestato alcuna perplessità, a differenza Ryanair non ha effettuato una politica solo per lo scalo abruzzese, ma in quasi tutti gli aeroporti regionali d'Europa ha deciso di non volare a gennaio. In che misura si ripercuote questa decisione sull'aeroporto d'Abruzzo? Purtroppo ha un duplice svantaggio. Uno per quanto riguarda la nostra azienda, il nostro scalo, che il lavoro verrà decurtato in una maniera importante e pesante. E dall'altro canto i passeggeri abituati a utilizzare il vettore comunque avranno dei servizi per tre settimane perché non vi sarà alcun volo, ripeto, tranne per Bergamo. Preoccupa sia a livello nazionale che internazionale la variante Omicron. La sospensione dei voli è finalizzata a prevenire i contagi. In questo scalo, aggiunge il presidente Catone, fin dalla prima ondata della pandemia sono state messe in atto tutte le misure finalizzate a prevenire il Covid. Rimane uno scalo decisamente sicuro, tutte le misure vengono prese costantemente, quotidianamente. Dal primo giorno della pandemia è uno scalo, un'aerostazione che controlla ogni singolo aspetto inerente ai controlli, a partire dalla temperatura quando si sale e si scende all'aereo fino ad arrivare fuori al parcheggio. Questa non può essere una magra consolazione ma deve essere una routine e ci aspettiamo che questa sia solo una fase transitoria per poter ripartire a volare serenamente e su tutte le destinazioni connesse con noi.